La macchina si mette nuovamente in movimento e allora di nuovo il campo partenti. Ricordo tre anni, gentlemen, dieci al via. Ultimatum victory, una di Tivoli, Umbria, Urania US, Uragan Road, Ukela Mail, Uragrif in prima fila. Up and Go, Upper Dream, Umberti Deban in seconda. Emerge nel lancio in maniera evidente Uragan Road, prova a rientrare Urania US, operazione che riesce, la segue Ultimatum victory. E allora riprende in mano Uragan e poi si crea un bel caos, anche perché Urania US che era davanti sbaglia. E così in testa si ritrova dalla seconda fila, Up and Go. Up and Go in vantaggio, Ultimate victory all'esterno, a contatto anche Umberti Deban, la rottura di Ukela Mail. Quindi Uragan Road e gli altri di scosta Umbria. 32 per i primi 400 metri, direi una prima fase della corsa molto, molto caotica. I 600 in 47 e 1, davanti c'è Up and Go, all'esterno in calza Umberti Deban in corda, Ultimatum victory. 47 e 1, dicevo i primi 600 metri, gli 800 in 1.3 abbondante con Up and Go in vantaggio Ultimatum che la segue. E poi Umberti Deban che è ripiegato in terza posizione e ora fa un po' fatica. Praticamente dopo un chilometro, il numero 18, davanti c'è Up and Go, la segue lungo la corda Ultimatum victory, gli altri più lontani capeggiati da Umberti Deban che è seguita da Uragan Road. 18 il primo chilometro, 400 metri per venire a casa, 1.33 e mezzo e 3 quarti di miglio con un 15 e mezzo dai 1000 ai 1002. Siamo al termine della piegata. Up and Go in vantaggio. Un paio abbondanti su Umberti Deban che ci prova. Più indietro c'è Ura Drift, poi anche Upper Dream, il crollo invece di Uragan Road e di Umberti Deban. Nel finale, Up and Go in vantaggio, l'attacco di Ultimatum sul palo, dovrebbe avercelo ancora fatto. Up and Go su Ultimatum. Up and Go al successo, 2.6 il totale. 1.18 e 3 circa, decimo più decimo meno ovviamente, la media al chilometro. Eccole le immagini. Up and Go, Giampaolo De Caro in sediolo. L'aggancio ci prova fino in fondo nell'aggancio Ultimatum victory, Up and Go che invece controlla fino in fondo. D'altronde si era trovata in testa senza grossa spesa. E poi, beh, eccola qua. Una testa di vantaggio, scarsa per Up and Go su Ultimatum victory, 8.1. Up and Go, Giampaolo De Caro, Roberto Dorici, Giuseppe Dorici. Il terzo posto per Uragriff che contiene il tentativo di Upper Dream.